Grazie Presidente. Io volevo spiegare ai miei colleghi e anche ai cittadini il perché in questo Parlamento, anche parlando dei diritti civili, sia diventata una barzelletta e viene ogni volta ogni proposta smentita poi nei fatti. Proposte che partono dal PD e non vengono votate, proposte che partono dall'altra delle politiche e non vengono votate. Basta guardare l'ordine degli interventi in aula di oggi. Io mi confondo sinceramente. Vedo deputati che sono entrati votando e schierandosi con i principi di Selle che parlano dalle file del PD, quelli che sono entrati con noi che parlano dalle file di Selle. Se questa è la logica politica che vi ha spinto qua dentro, capisco anche com'è che poi votiate contro i vostri stessi principi perché non rispettate più quello che è il vincolo dei cittadini che vi hanno mandato qua dentro. Figuratevi quello che è il rispetto delle decisioni di quest'Aula parlamentare. Questo è il paradosso di questa politica dove uno viene votato con un'idea, arriva qua dentro e la cambia da un giorno all'altro. La risposta è esattamente in quello che abbiamo visto fino ad oggi. Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Molteni.